è appena uscito un nuovo tik tok sul profilo di roberto vi consiglio di andarlo a vedere perché mi hanno fatto molto arrabbiare fate i suoi pop e mangi sempre le caramelle ci siamo i knew i loved you then but you'd never know it's like play it cool when i was scared of letting go i knew i needed you but i'll never show buon pomeriggio a tutti come state io tutto bene sto andando musical in macchina con la mia mamma piove veramente tantissimo qua così per incominciare il lunedì al massimo al top comunque volevo dirvi comunque anche uscita una nuova puntata su our kitchen dove saranno presenti noi mi usa fesse bar e federico fatti sui pop per andarlo a vedere i don't want all life for christmas there is just one thing that i need i don't care about the present underneath the christmas tree i just want you for my own buon pomeriggio a tutti come state io tutto bene a parte che sono un po stanca perché questa è la settimana delle verifiche perché praticamente nella mia scuola e i professori decidono una settimana nel primo quadrimestre del secondo quadrimestre dove c'è una settimana praticamente soltanto di verifiche non si fa lezione ma soltanto verifiche oggi mi sono beccata filosofia storia e fisica tre materie non facili e non materie tranquille tra virgolette e quindi ho la testa che mi scoppia ho voglia di riposarmi per fortuna oggi è la giornata libra quindi avrò la possibilità di stare tranquilla nel giorno carlos e cos'è combinato sei caduto come hai fatto sono andata con la bici in una salita con la bici e poi ho frenato con il frano dietro mi sono ribaltato ho cercato di andare su mi sono rovesciato ho cercato di andare su mi sono rovesciato ho cercato di andare su ti sei rovesciato e poi dopo ce l'hai fatta l'ultima volta mi sono fatto tutta questa roba eccomi qui buon pomeriggio a tutti come state io tutto bene perché sono molto spettinata ma tanto fra un po andrò ad ansa quindi mi pettinerò tutta e oggi ho avuto la verifica di matematica matematica e storia dell'arte finalmente mi sono tolta il peso della matematica perché vi giuro non ce la facevo più mi scoppiava la testa il pensiero oddio e se domani ho la verifica di matematica oddio e se domani ho la verifica di matematica adesso non me lo chiederò più così sono i muratori e niente città anche una nuova puntata di our style room dove ci sarà giulia che sfiderà brunella io vi consiglio di andare a vedere fate swipe up i don't want a lot for christmas i don't want a lot for christmas i don't want a lot for christmas Noi vi diamo la... Buonanotte a tutti... Quanti?